Mentre alcuni migranti protestano per il cibo servito prima del tramonto durante il Ramadan, Ken, arrivato due anni fa dalla Nigeria, ha tutta un'altra visione. Non segue i principi religiosi ma ha una visione molto critica dello stile di vita di molti migranti arrivati ad Arezzo. Io piace Arezzo, non mi piace immigranti in Arezzo perché tanti problemi, droga, fighting, tanti problemi in Italia, Italia, in Italia c'è lei diritto, ok, io, io conosco e io conosce diritto in Italia, ok, vai a scuola, tu è immigrante, tu non vai a scuola, perché? Perché? Perché non vanno a scuola? Io, tutti i giorni, io vai a scuola in nuova città o a casa mia. Il viaggio di Ken era iniziato due anni e mezzo fa dalla Nigeria, una traversata costosa e pericolosa. Si trova ospite della cooperativa La Tappa, dove svolge anche l'attività di giardiniere. Nel suo paese ha studiato architettura e una delle sue passioni è il disegno. La cosa più importante è imparare l'italiano il più in fretta possibile. Arancioni, orange, rosso, red, blu, blu, azzurro, popo, giallo, yellow. Che cosa fai tu qui? Come passi la giornata? Dalla mattina alla sera, cosa fai? La mattina io svelo alle sette, la mattina undici, undici da mattina io vado a Irospen fa la spisa. Fai la spisa alle tre, io vado a scuola, scuola italiana, lingua italiana, adesso io a casa perché oggi è finito. Io stanco mentre no, e cucina e mangio. Il tuo futuro? Il mio futuro? Ah, qui, qui.